Al liceo classico, mi sono iscritta a Ca' Foscari, a Venezia, e poi però mi sono iscritta anche all'università in America, a Sarah Lawrence. Al periodo delle vacanze di Pasqua, io avevo come compagna o vicina di camera Barbara Warner, che era la figlia di Warner, padrone della Warner Brothers, e arrivai a casa loro ospite e mi veniva chiesto la sera, con chi vuoi come ospite al pranzo domani sera, voi Marlon Brando, Montgomery Clift, Falle Granger, eccetera, e andare in giro per tutto, e io lì ho delle fotografie che mi presero con Marilyn Monroe e praticamente io non tornai a Sarah Lawrence all'università a New York, Barbara Warner tornò, io no, e siccome lì le comunicazioni erano abbastanza lente, lunghe, eccetera, mia madre per un bel po' di tempo non seppe che io non ero banco per niente tornata all'università, e quando lo seppe arrivò a New York, arrabbiatissimi, tutti arrabbiatissimi, eccetera, io dissi no, 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 ma io voglio rimanere qua e voglio andare, sì, a fare dei corsi alla Columbia, all'università di giorno, ma voglio fare una scuola di fotografia, e lì ho incominciato ad avere la passione della fotografia, chi poi io abbia fotografato per prima non lo so, ma non è poi che io ho mai pensato, a me le arti visive mi hanno sempre affascinato, quindi non era quello il problema, ma fotografavo quello che vedevo, nel senso che non è, io vedo adesso anche queste cose di fotografia che mettono le persone in posa, io non ho mai chiesto a nessuno di mettersi in posa, per me la fotografia che mi diverte delle persone, è delle persone eccezionali in dei momenti assolutamente normali, quotidiani o che fanno quello che fanno nella maniera più naturale, quindi non mi considero assolutamente una fotografa, mi considero una persona che è stata, ha avuto la fortuna di essere testimone di tante cose e di vedere tante persone affascinanti, interessanti e alcune cose le ho fotografate, ma se avessi pensato a un futuro da fotografo, se avessi pensato di pubblicarle o altro ne avrei potute fare molte di più onestamente, invece così quando mi capitava le facevo, andavo in giro, tornai da New York serissima con Hasselblad eccetera, Hasselblad non so dove andava a finire, poi passai alla Rolex che era anche una macchina abbastanza impegnativa, poi invece andai in giro per anni con una like al collo e quando mi capitava prendevo le fotografie, ma non ho mai avuto né l'ambizione né il... cosa di fare fotografo, onestamente io ho sempre voluto fare cinema, non fare fotografo insomma, poi passato un certo periodo di tempo queste fotografie storicamente hanno preso un loro peso anche abbastanza importante e alcune sono anche abbastanza belle, ma insomma non è il mio mestiere, ma l'occhio l'ho sempre avuto e mi piace, mi è piaciuto, certo in Libia era difficile, quando andavamo in giro a Lettis Magna eccetera, mi piaceva molto fotografare le persone davanti, cosa per esempio non so, la fotografia di Cecil Beaton che ha gli stessi occhi della medusa, mi piace tantissimo, mi diverte moltissimo, hai capito, ma insomma sono sempre quello che gli americani chiamano dei snapshots, insomma, non delle fotografie serie, ma d'altra parte però anche alcuni grandi fotografi, vabbè, a casa poi lui ti faceva posare eccetera, ma anche se Cecil Beaton andava in giro poi per Lettis Magna con una macchinetta, non è, non è, allora dunque, la copertina del libro, io ho fatto un primo libro che si chiamava scritti e scatti e avevo delle bellissime, dei bellissimi, antifatti come si chiamano, delle presentazioni fatte da varie persone, avendo per questo libro qua, non mi ricordo più, forse ne ha fatto una daccia in italiano, come scritto, sono scritti in tre lingue i libri, avevo chiesto a tre persone di tre paesi diversi di farmi le prefazioni, le presentazioni del libro e sono andata a far vedere le fotografie e a parlare con Ferzan Osbetech, pensando poi che quello è un mondo che lui evidentemente conosce molto bene eccetera, che era una persona data, poi è un mio amico ed è estremamente così intelligente eccetera, a lui ho guardato tutte le fotografie e poi mi ha detto senti ma che fotografia usi per la copertina? Ho detto perché non me la scegli tu? E lui ha detto ma ce n'è una sola ed è quella della mano di Fatima, la mano di tua madre e così è che è nata, è che tra le varie fotografie è nata questa copertina. Sono gli amici miei che sono spesso del mondo dello spettacolo, cominciamo a parlare di Lucchino Visconti che comunque era in partenza amico dei miei genitori ma poi diventò molto amico mio soprattutto a causa di Helmut Berger, Helmut fu un mio grandissimo amico era nato non purtroppo lo stesso anno ma lo stesso giorno mio e arrivò e a quell'epoca lì vabbè poi mi pare l'ultimo anno venne anche Florinda, Volcan, venne Jacqueline de Riebe, venne bellissima, straordinariamente simpatica eccetera con cui poi andai in Marocco, Fiona, Thyssen e Jeanne Moreau con cui avevo fatto un sacco di viaggi, Jeanne era una mia grandissima amica, personaggio straordinario, l'anno prima era venuta con me a Capri e un giorno mi dice ma sai io credo che andrò via tra un paio di giorni perché vado a prendere libertà a Genova perché vado a New York in nave, a New York in nave mezza l'estate, dico ma far che? dico perché sulla barca ho scoperto che c'è Pierre Cardin, dico allora che succede? mi piace Pierre Cardin, partì in barca per fare la conquista del povero Pierre Cardin che di donne non aveva mai visto una in vita sua e tornò praticamente quasi sposata con Pierre Cardin che mollò il suo amico risperato e si era innamorato moltissimo della prima nonna della sua vita che era Jeanne insomma Jeanne era un personaggio fantastico, era una nonna fantastica, era estremamente spiritosa, divertente, grandissimo talento lei una volta andò in televisione e le chiesero ma lei come mai parla così bene l'italiano? e lei rispose eh ma io ho un'amica in Italia si chiama Marina Cicogna e poi disse io avevo appena avuto una copertina di Time fra l'altro dipinte era uno dei più grandi pittori messicani, una roba importantissima cioè lei in quel momento lì era veramente una grande star mi disse poi io vado in giro per il mondo e lavoro molto e tutti mi conoscono come mamma arrivo in Italia e divento un'amica di Marina Cicogna aveva una maniera di non prendersi sul serio che è assolutamente unica per un'attrice di quella portata come era Jeanne ma sai l'Italia in verità io che poi ho vissuto abbastanza anche fuori dall'Italia eccetera a Roma oggi non ne parliamo neanche ma è sempre stato che sono sempre dei gruppi di gente chiusa fra di loro che si vedono sempre fra di loro se tu andavi a Parigi, a Parigi c'era un fritto misto enorme di persone cioè tu andavi a un pranzo, erano Maximini che prendendo tutti e Maximini c'erano da Balthus il grande pittore al grande attore al grande regista al grande scrittore tutto mescolato con i rocci, le cose eccetera anche in America, in Inghilterra fosse un pochino meno anche in America però c'era un gran misto bisognava seguendo quello che erano quindi questo non è legato all'epoca è legato ai costumi di ogni paese un pochettino e questa mia madre era poco italiana insomma anche le piaceva molto frequentare persone Nancy Mitford era la sua più grande amica ma era moltissima amica anche di Alex Rothschild di persone diverse ma sempre persone di una grande di un grande spessore culturale anche se mia madre purtroppo quando c'era la Biennale eccetera tra i giovani pittori eccetera non ha mai comperato un quadro di Sight Wombly perché per lei la pittura si fermava all'impressionismo qualche cosina tra i primissimi Picasso però poi compravano i fondi oro della non so che venivano da Ancora in Cambogia che se avesse comperato un disegnino di Tuombly era sicuramente più interessante